Il nostro slogan è eticamente, lo vogliamo poi praticare nel quotidiano supportando tutte le iniziative, in particolare iniziative di questo tipo che sono importantissime soprattutto per i nostri giovani. Grazie ancora. Buonasera, quindi benvenuti al convegno. Cyberbullismo, ora affrontiamo subito la tematica. Prima era doverosamente da dire una parola sugli enti promotori e sugli enti patrocinatori dell'iniziativa, Caetiaki, Rete Ambito 8 delle scuole, la Banca Popolare di Cividale, il Corecom FVG, il Comune di Udine e il forum regionale delle associazioni familiari. Poi con calma vedremo i relatori, la loro partecipazione, le parole che hanno da dire. Comincerei subito con il saluto del questore Cracovia, questore della provincia di Udine. Buonasera a tutti. Madonna, già ho la voce stentoria, arriverà. L'importanza del tema, la qualità dei relatori mi impongono di essere breve. Io devo dire che sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso dal respiro che questo convegno si vuole dare. Soprattutto dal respiro e da quello che è l'oggetto, il tema del convegno e soprattutto da coloro che sono i beneficiari diretti questa sera di questa iniziativa. Innanzitutto perché da sempre l'istituzione che ho l'onore e il privilegio di dirigere ha sempre posto al centro di ogni buona iniziativa di prevenzione e di educazione alla legalità la rete, fare sistema, fare sistema tra associazioni, fare sistema tra istituzioni e soprattutto fare sistema tra scuola e famiglie. Anche perché uno dei peggiori difetti che ha avuto in passato l'azione di contrasto di determinate filminologie è quello di andare in ordine sparso. Soprattutto la scuola e le famiglie per anni, per troppo tempo hanno trascorso il tempo, mi si scusi la cacofonia, a dire questo spetta a te, questo spetta a me. Sbagliatissimo, la compartimentazione significa non sapere l'uno cosa fa l'altro, la compartimentazione è un pretesto per il cosiddetto sport dello scaricabarile. Qui invece questa rete di associazioni, questa rete di istituzioni parla direttamente con i dirigenti scolastici, ce ne sono qui, ho visto molti, e soprattutto con le famiglie. Perché questo, credetemi, è un aspetto, un fenomeno di tragica attualità che non va sottovalutato, ha grandi complessità, anche perché ci si trova spesso e ci si è, impreparati di fronte alla velocità dei mutamenti tecnologici e soprattutto di fronte alla velocità con cui i giovani, i giovanissimi, perché qui, guardate, qui siamo arrivati a livello di primarie, noi a volte pensiamo di fare della buona formazione, della buona prevenzione negli istituti secondari superiori di secondo grado, è troppo tardi, anche negli istituti secondari di primo grado. Cioè bisogna iniziare veramente dalle primarie e soprattutto bisogna parlarne e soprattutto non bisogna fare un altro grande errore che in passato, magari di fronte ad altri fenomeni, si è fatto e si continua a fare. Ma sì, ascolto, ma tanto a me non può capitare. Guardate, visto lo strumento, visto il campo in cui ci si muove e in cui si muovono i giovanissimi, perché ribadisco i giovanissimi, il rischio che incappino nei pericoli che una gestione, un governo irresponsabile, un utilizzo irresponsabile della rete comporta è elevatissimo. Insomma, qui questa sera poi i relatori ve lo evidenzieranno senz'altro. E soprattutto, al di là del metodo, che veramente è da applaudire, quello che è importante è che questa sera viene presentato uno strumento, uno strumento di cui c'era effettivamente bisogno. Perché noi, che spesso e volentieri parliamo con i genitori, nel momento in cui parliamo con i genitori, con i professori, per metterli di fronte a questo che è veramente una piaga, una piaga che tra l'altro ha costretto il legislatore a maggio a mettere in campo una legge molto articolata, che ha aspetti preventivi e addirittura aspetti repressivi. Noi ci trovavamo di fronte, per il resto lo sono anch'io, a genitori, a insegnanti che insomma non hanno la velocità, non hanno la preparazione, non hanno le conoscenze che una gioventù che ormai è una gioventù che nasce digitale ha. Ecco perché io sono veramente entusiasta quando ho letto di questa iniziativa e quando così mi sono peritato di andare così a scandagliarne i contenuti. Stiamo veramente attenti, questo è un pericolo reale, è un pericolo molto insidioso, è un pericolo che si annida dentro quello che è ormai un compagno, un compagno dei nostri figli, anzi io potrei dire dei nipoti ormai, anche perché, lo dicevo prima con alcuni dei relatori, io appartengo a quella generazione che comunica con i pizzini o con i segnali di fumo ancora. Cioè noi ci siamo impreparati, ecco che questo strumento, che è uno strumento che sarà senz'altro utile perché permette, tra virgolette, di stare in guardia, insomma penso che lo stesso, lo stesso cuore del termine caicchiacchi è quello, permette, tutelando quella che è la cosiddetta privacy. La privacy, guardate, la privacy è una cosa a cui i ragazzi, le giovani delle azioni, tengono particolarmente, insomma, magari non sapranno chi è Scipione l'africano, non sapranno chi è Annibale, ma se gli parlate di privacy, loro sanno effettivamente di che cosa si tratta e la concepiscono quasi sempre come libertà dall'intrusione dell'autorità, sia essa l'autorità dei genitori, sia essa l'autorità scolastica, sia essa l'autorità, come la definiscono loro, l'autorità di governo, perché ci etichettano la polizia come autorità di governo. È un tema importante, è un tema su cui è opportuno dibattere e soprattutto è un tema su cui è opportuno riflettere. Il diritto individuale alla privacy non rischia di mettere in pericolo dei beni più estesi, dei beni più importanti di un ordine superiore, pensiamo innanzitutto alla salute, piuttosto che addirittura a volte alla stessa incolumità fisica, all'integrità fisica. E non ci sono diritti della collettività intesa, tra l'altro come insieme di individui che vanno magari tutelati con qualche opportuna, sapiente compressione del diritto e della tutela della privacy. Ecco, questi sono argomenti molto importanti, è molto importante parlarne, senza, ripeto, e scusatemi se sono, se vi annoio, sono argomenti che devono suscitare in noi, anche in noi, un allarme come quello che suscita l'app, lo strumento che vi presenteranno questa sera, un allarme in noi che ci porta a riflettere, a pensare che può capitare anche a noi, può capitare ai nostri figli, può capitare anche ai nostri nipoti. Credetemi, il rischio è reale. Ecco perché, insomma, e qui chiudo, esprimo veramente applauso a coloro che hanno organizzato, a trottocinato, alla Banca Popolare e Civitale che ha finanziato questa iniziativa, perché è uno strumento che si può rivelare decisivo, nel rispetto di quella che è la privacy dei ragazzi, dei giovanissimi, e soprattutto uno strumento che se usato sapientemente, se usato, se le applicazioni vengono condivise da questa rete, che comunque deve esserci, deve consolidarsi, deve rafforzarsi, è uno strumento che può portare ad evitare ricadute sociali pesantissime. Io vi saluto tutti e vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato. Buon lavoro! Grazie, grazie, buono. Evidentemente l'argomento del questore lo muoveva a passione, vista la dovizia di particolari che ha ritenuto comunicarci. Dunque, prima di cominciare col convegno vero e proprio, io volevo dare due comunicazioni di servizio, come vengono dette. Una è di, non spegnere, ma silenziare i cellulari che avete. E fa parte di un'educazione ai nuovi media, ai nuovi strumenti che abbiamo, no? Specialmente in ambienti sociali come questo. L'altra è che è possibile comunicare con noi, cioè tramite, qua magari è già più simpatico, tramite Facebook. Se voi mandate un messaggio con il messenger a chiocciola kaitiaki, oppure direttamente sulla pagina di kaitiaki, trovate il bottone manda un messaggio, avete domande per i relatori, io proverò a stare in contatto diretto con le domande che vengono poste e eventualmente riferirle. Altro mio interesse era, che poi in questo modo lo leggo come cappello introduttivo, se vedete me col telefono in mano è per questo motivo qua, non perché io debba smessaggiare con le morose, magari. Una piccola biografia mia, in quanto descritto come esperto di culture digitali, che poi ci porta agli argomenti della serata. 20 anni fa, nel 97, chi di voi è insegnante forse ricorda, c'era la legge turco, anche chi fa assistenza sociale, servizi sociali, c'era la legge turco, la 285, che riguardava la possibilità di progettare iniziative di carattere sociale sui 0-18, sui minori. Io 20 anni fa ho scritto un progetto, si ragionava per ambiti socio-territoriali, per Codroipo, quindi Basiliano, Flaibano, Cammino a Tagliamento, erano 12 comuni, e si chiamava Mediateca, e il suo esplicito obiettivo di progetto era far acquisire alle scuole, ma all'intera comunità educante, consapevolezza riguardo i nuovi media. 97, se vi mostro le pagine del progetto che scrissi quella volta, gruppi classe, promozione della capacità critica di lettura dei messaggi multimediali, consapevolezza sull'uso della rete, media education, come da molti anni si dice, 30 anni, cioè educazione ai media con i media. Sono cose che sono 30 anni, che ne parlano in maniera, la letteratura scientifica è ben chiara, e avremmo dovuto farla anche le generazioni precedenti, quelle per la televisione ad esempio. Sono tutte quante cose che sono mancate, forse negli anni, parlo di decenni, manca una volontà di far comprendere come le grammatiche della comunicazione moderna, avete presente qualunque storia dei mass media, la propaganda della radio, la stampa, la televisione, il cinema, arrivati fino alla rete, non c'è mai arrivata, ma neanche i cinquantenni, a nessuno, una capacità di leggere i messaggi, una fotografia, un'inquadratura, cioè ritaglia il mondo, non rappresenta, non è il mondo, è una rappresentazione del mondo, il fotografo fa parlare il mondo, secondo la sua volontà, la televisione è un messaggio costruito, è un testo complesso, grammatica vuol dire, per gli insegnanti in sala, la solita cosa, morfologia, sintassi, semantica, e della rete, e del cinema, e della radio, e tutti i mass media, gli è possibile fare questa operazione, in tal modo i ragazzini, come le elementari, le primarie, arrivano che sanno già parlare a scuola, ma insegnando loro la grammatica, potenziamo la loro capacità di leggere e di scrivere in seguito, di nominare maggiormente, con più precisione, in maniera chiara e distinta al mondo. Questa cosa è mancata, ripeto, vent'anni fa facevo un progetto che riguardava esattamente, questo. Quindi, prima cosa, non si chiamano nuove tecnologie, sono vent'anni, è cambiato nel frattempo il mondo, gli organi di informazione, la stampa, la prima pagina dei giornali parla della rete, ma già da anni, perché lì avvengono le cose, l'economia è cambiata, l'industria 4.0, quello che è nuovo in questo momento se ne sta parlando a Confindustria o in camera di commercio, cioè l'artigianato con le macchine digitali, l'intelligenza degli oggetti, Internet of Things, l'intelligenza artificiale, cose che sono già, questo è presente, e non futuro. Tutto il resto, la rete, la possibilità. Il 20 novembre del 99, per la giornata dei diritti dei minori, io ho fatto chattare metà delle scuole del Friuli, ma era il 99 e chattavano, e poi a casa questi qua già chattavano per conto loro, no? Cioè siamo arrivati molto molto con calma alla questione. A quanto pare però c'è molto da fare, cambiano gli strumenti, la scuola, i genitori saranno sempre indietro, perché il mondo questo è velocissimo, e stare fermi sei mesi, o dire perdere tre anni in come vanno avanti le cose. Un dirigente scolastico che deve aspettare di vedere arrivare i soldi per attivare un progetto per una formazione sugli insegnanti, passa il tempo, quell'oggetto su cui voleva fare formazione è già vecchio, è già arrivata la seconda ondata di innovazione, magari in un ambiente collaborativo, in un ambiente digitale e così via. Quello che volevo fare io ero con gli ospiti, che oggi qua per fortuna rappresentano l'altro aspetto fondamentale anche di quel progetto, quella volta, ovvero riuscire a coordinare o fare rete, come diceva il questore, tra tutte le parti della comunità educante. Sui minori, sui ragazzi, ci vorrebbe per dire un parroco, un allenatore di calcio, una babysitter, per esempio, qualunque roba, sono tutte quante queste componenti che intervengono sul minore, ognuno di loro conferisce un punto di vista educativo, auspicabilmente, e comunque rappresenta un muro per una rifrazione, uno specchio dentro cui il minore vede e comprende, secondo le varie età, che sia appunto sotto i 10 anni, 13. Poi vedremo con calma cosa vuol dire anche scandire l'educazione secondo le tappe di accrescimento, di crescita del bambino. La relazione tra apprendimento e tecnologie, quella è assolutamente da tenere presente come fondamentale, cioè il contesto che dà il senso al messaggio. Non è una chat in più, o un telefonino, o uno strumento. Stanotte stanno inventando qualcosa che domani spacca il mondo. Magari non uno core che sia in New York, potrebbe essere anche in Carnia. Un'app, qualcosa, un sedicenne che non sa cosa fare, si inventa qualcosa. Stanotte che cambierà di nuovo il mondo. Quindi non è che si può inseguire, rincorrere gli strumenti, ma comprendere il contesto che dà senso a quegli strumenti. Dicevo, sono rappresentanti della comunità educante, la dirigente Bellardini per la polizia postale del Friuli Venezia Giulia, Gerva, ah mi è cambiato, esatto, il dirigente scolastico Gerva Zutti per la rete ambito 8, che dicevamo prima, il signor Biasoni per il rappresentante del forum delle associazioni familiari del Fugì, l'avvocato Davide Agostini, in quanto esperto, prima si scherzava, prima del convegno si scherzava sulla specialità che ad esempio la legge ha dovuto rapidamente aggiornarsi, perché la rete, il digitale, mettono in dubbio, in discussione, argomenti, contenuti, nozioni che sembravano fondamentali per la civiltà, anche la proprietà, pensavo, parlavo l'altro giorno, cambia cos'è mio, cos'è tuo con la rete, cambia io e voi. Oppure c'era l'esempio del, scusa, poi chiudo, mi faceva ridere, che uno fa una copia di un file, se devo fare io una piroga col fuoco, devo costruirne un'altra, mi occorre un altro tronco, altro fuoco, e un altro che sappia fare una piroga, no? Matera, energia, informazione. Cultura tecnologica. Per copiare un file di Word, io prendo trascino e copio e faccio un altro file, ma ne faccio altri mille, un milione di altri file, e non mi costa produrre copie di quell'oggetto, questo cambia completamente il valore economico di quell'oggetto, non è più basato sulla materia, ad esempio, una società, un'economia dell'immateriale e così via. Per cominciare, la prima cosa che volevo chiedere io, il mio timore è che tutti abbiano un'idea su cos'è il cyberpullismo e abbiano anche le soluzioni pronte, ognuno di noi in tasca, dipende dai mass media, da come ce l'hanno raccontato, dai giornali e così via. Quindi per cominciare io volevo fare questo, avere puramente i dati, anche in modo assettico, non vincolati, non viziati da emozioni o affettività, di cui poi parleremo comunque. Quindi, ad esempio, per la polizia postale, dati vuol dire numero di reati, numero di inchieste. E qua io le chiedo i numeri di quello che accade in questa regione. Allora, guardi, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di questo invito, anche perché la polizia postale è delle comunicazioni, il cyberbullismo è un fenomeno che viene perpetrato con l'uso prevalente o esclusivo della rete attraverso un uso distorto di immagini e parole. Quindi la polizia postale e delle comunicazioni, diciamo, si occupa anche di questo. Allora, io numeri non ne ho portati perché non mi piace ragionare su numeri. E le dico perché. Lei ha fatto una premessa molto esatta. La rete va veloce, i numeri vanno veloci. Quindi i numeri non hanno senso, perché non cristallizzano assolutamente un fenomeno che è completamente avulso dai numeri. Perché le faccio un esempio. Se anche ci fossero, e parlo per astratto, 30 episodi in una scuola ad Udine di cyberbullismo e ci fossero poi, io ovviamente sono il capo della polizia postale della regione, quindi mi devo preoccupare di un dato globale e regionale, ok? E ci fossero 200 episodi all'anno a Trieste, ovviamente sono numeri campati in aria, in realtà non mi interesserebbe né quel 200 né quel 50 ad Udine, ma mi interesserebbe magari quell'unico episodio che avviene a Pordenone e che comporta poi purtroppo episodi di autolesionismo da parte del cyberbullizzato. Quindi i numeri in realtà non significano assolutamente niente. Diciamo, e questo lo dico onestamente, che è un fenomeno tendenzialmente in crescita e paradossalmente è in crescita a seconda dell'amplificazione che si dà attraverso i media. Io sono responsabile di quello che dico, ripeto, lavoro sulle parole, quindi non a caso dico questo. Faccio un esempio. Il cyberbullismo non è un fenomeno che, diciamo, nasce in Italia. Il cyberbullismo nasce a un fenomeno anglosassone, nasce all'estero. Paradossalmente, noi, che siamo sempre un pochettino in ritardo e per fortuna per quanto riguarda questa materia, ci siamo occupati del cyberbullismo quando, se non erro, all'incirca dieci anni fa, e l'avvocato forse è più preparato di me, venne preso in giro, in classe, un ragazzo down. Un ragazzo down che venne ripreso da un cellulare, ovviamente con una denigrazione, non soltanto del suo handicap, ma ovviamente della sua persona. Da lì, diciamo, sulle cronache locali e poi nazionali, l'episodio fu così eclatante e così, tra virgolette, portato alla ribalta dei mass media, per cui in Italia, noi viviamo di emergenze, nacque il fenomeno del cyberbullismo. Già c'era, ovviamente, perché, come dico io, la rete non crea nulla. La rete amplifica situazioni che già esistono. Cioè, non è che uno si sveglia la mattina e nasce cyberbullo. No, nasce bullo. Le diciamo che la bullizzazione, quindi la prevaricazione di minore nei confronti dei minore, nasce sui banchi di scuola, a prescindere dall'uso del cellulare, o a prescindere dall'uso del computer, o a prescindere dall'uso di quel video e dalla diffusione di immagini denigratorie del minore. Già c'è a monte. Questo è un fatto. Questo è un fatto. E ovviamente la rete amplifica quello che già preesiste. Perché nel cyberbullismo non si può parlare di numeri? Lo sa perché, anche per questo motivo. Perché, come ha detto giustamente il signor questore della provincia di Udine, il più delle volte, adesso con questa legge non sarà più possibile, ma si tendeva a minimizzare episodi altamente gravi che venivano all'interno degli istituti scolastici. Un po' per paura, ovviamente, anche un po' per inesperienza, da parte della famiglia, da parte dei genitori e dei professori. Si tendeva a dire, sono ragazzi, sono minori, quindi non sono imputabili, conseguentemente cerchiamo di risolvere la problematica all'interno dell'edificio scolastico, magari chiamiamo la polizia postale. Cioè, la polizia postale, fino a ieri, quindi fino all'entrata in vigore di questa legge, veniva un po' chiamata con me a completare l'album delle figure panini, ce l'ho, non ce l'ho. Nel senso che le scuole dicevano, ma chiamiamo la polizia postale anche all'inizio dell'anno, perché così la polizia postale è venuta, se poi, malauguratamente, si dovessero verificare degli episodi incresciosi all'interno dell'istituto scolastico, io posso dire al genitore, posso dire all'educatore di quel ragazzo, che comunque c'era stata una lezione sulla legalità, sull'uso sicuro della rete da parte della polizia postale. Io ho cominciato a ricevere, io sono qui da due anni, addirittura telefonate preventive da parte di professori e direttori scolastici che mi dicevano, ma io vedo dei ragazzi che usano il cellulare in classe, ma se poi usano questo filmato, io le posso fare una denuncia prima che lo usino? Ecco, arriviamo al paradosso, quindi i numeri sinceramente non ne fornisco, perché, ripeto, non mi sembrano... Oh, mi scusi, ma io ho visto dati, fatti. Il primo fatto è quello che voi... Lei mi ha parlato di numeri. Perché è un esempio di dato, L'altro fatto è che le scuole vi chiamano per condurre delle iniziative. Questo è un fatto. Certo, ma questo da tantissimo tempo non è che chiamano noi. Esiste all'interno della questura, e quindi ci tengo questo a specificarlo, il cyberbullismo non è un fenomeno indipendente, esiste prima un bullismo, quindi una psicologia del bullo che si crea a prescindere dall'uso della rete. Quindi, all'interno di tutte le questure d'Italia, gli uffici anticrimine hanno un ufficio che si occupa di questo, quindi dell'analisi di dati, e vanno nelle scuole a parlare di legalità ai ragazzi. Successivamente, ovviamente, con la nascita del cyberbullismo, quindi con l'uso sempre più frequente della rete, col fatto che i nostri ragazzi nascono nativi digitali, e che quindi usano lo strumento, che sia l'iPhone di ultima generazione, o che sia il Samsung, e non usano più la penna, è chiaro che l'esigenza di prevenire, di educare alla legalità in rete, ci ha visto protagonisti. Però diciamo che ci ha visto protagonisti in una prima fase, per educare i ragazzi alla sicurezza informatica. Con la nuova legge del cyberbullismo, e con la nuova politica dipartimentale, è cambiato lo scenario. Cioè i miei soggetti, i miei interlocutori, paradossalmente, non sono più i ragazzi. I miei interlocutori sono i genitori, i professori, e gli educatori. Posso fermarla? Certo. Ok, dirigente. Di una scuola, ma non solo, è un comprensivo, quindi le realtà sono molte e anche diverse, immagino, in quella scuola. Io le farei la stessa domanda, se ci sono poi le possibilità di una risposta, soprattutto. Cioè, se è possibile quantificare l'impatto che hanno i social network, gli strumenti di messaggistica, all'interno della scuola, nella vita concreta dei ragazzi, e come la scuola vede il fenomeno. Si è visto qualcosa nel corso degli anni, cosa è cambiato, le comunicazioni con i genitori, i famigerati gruppi WhatsApp dei genitori, ad esempio. C'è una frattura molto netta tra noi immigrati digitali e i nativi digitali, tra noi genitori qui presenti e i nostri figli. Ma mi faceva sorridere prima quando tu hai detto scrivete su Facebook Messenger. Ecco, i nostri ragazzi, per esempio, Facebook non lo utilizzano, non sanno neanche cosa sia, cioè ormai usano altri strumenti, insomma. Perché? Perché non usano più Facebook? Perché forse è adoperato dagli adulti, quindi loro vogliono prendere distanze dal mondo degli adulti. Quindi... La nonna ti chiede l'amicizia, e quindi tu che fai? Non gli dai la nonna all'amicizia? Se pubblichi una foto, la nonna dopo un minuto ti chiama e ti dice ma perché hai pubblicato questa cosa? Oddio, stai male? Ecco, questo è un pochettino il... Allora, per continuare il discorso della dirigente, della polizia postale, delle comunicazioni, tutti quanti i ragazzi sempre, sono andati sempre a cercarsi un muretto un po' più in là, dalla piazza, no? Di certo non andavano dove c'erano i fratelli grandi o i genitori sulla piazza della chiesa, c'era il muretto sempre diverso per ogni generazione. E sono nuovi muretti su cui fare socialità. A scuola come fanno? Allora, l'impatto è molto forte. Utilizzano nuove tecnologie soprattutto per avere un riscontro di tipo ludico. Non hanno ancora capito, ma forse anche molti docenti non hanno capito questo, anche molti dirigenti, che l'utilizzo delle, chiamiamola ancora nuove tecnologie, anche se ogni nuova tecnologia nasce già vecchia, come dicevi tu prima, no? Questo è un paradosso, ma molto reale. Non hanno capito che queste tecnologie possono servire anche a sviluppare conoscenza. Anzi, è questa la nuova frontiera verso la quale deve muoversi la scuola. Quando questi ragazzi utilizzano le tecnologie lo fanno per lo più di nascosto, anche in ambiente scolastico. E adesso siamo in attesa delle linee guida, no? Che il Ministero ha promesso relativamente all'utilizzo degli smartphone nel mondo della scuola. Ma anche lì, cioè c'è un problema di comunicazione, di linguaggio. Il Ministero ci dice arriveranno le linee guida sull'utilizzo degli smartphone a scuola. Ma non si può generalizzare. Utilizzare uno smartphone a scuola non è come utilizzare un tablet a scuola, un PC portatile, una LIM. Sono strumenti profondamente diversi. Quindi dire linee guida per l'utilizzo degli smartphone significa banalizzare il problema, significa non sapere realmente quello che accade nelle scuole. Tanto più che questo crea terrorismo psicologico poi tra gli insegnanti, Parlare di utilizzo degli smartphone a scuola. Però le scuole sono attrezzate, hanno abbracciato la modernità, le scuole. Le scuole stanno abbracciando la modernità grazie anche a molti finanziamenti che stanno arrivando. Questa è un'altra leggenda che io devo sfatare. Cioè il fatto che le scuole vivano in povertà, non abbiano dei fondi, non è assolutamente vero. Le risorse ci sono, molto spesso vengono spese male, vengono utilizzate male. Negli ultimi anni stanno arrivando moltissime risorse anche da finanziamenti europei. Molte scuole non accedono a questi finanziamenti perché è difficile poi rendicontare i finanziamenti, gestire tutte queste risorse, ma volendo le opportunità ci sono. È una sfida che noi dirigenti scolastici dobbiamo raccogliere. Questo purtroppo non sempre avviene, però dobbiamo fare i conti in questa realtà. Quindi gli investimenti ci sono. Purtroppo la formazione che viene fatta anche ai docenti è una formazione che ha un'impostazione secondo me sbagliata, perché è un'impostazione di tipo informatico, invece bisogna dare un altro taglio, bisogna far capire agli insegnanti che quello che è importante non è imparare a utilizzare l'iPad, l'iPhone, la LIM di nuova generazione dal punto di vista informatico, tecnico, è capire quali ricadute ha sull'apprendimento e sullo sviluppo cognitivo dei nostri ragazzi l'utilizzo di questi strumenti. Invece i nostri insegnanti sono preoccupati anche giustamente dal loro punto di vista perché dicono ma io parto già sconfitto in partenza perché i miei alunni, i miei bambini sanno usare questo strumento meglio di me. Questo non significa niente però, l'insegnante ha un altro compito, non deve dimostrare di essere più bravo dal punto di vista tecnologico, informatico, deve guidare i bambini, i ragazzi e far capire loro che l'utilizzo di questi strumenti può anche andare al di là dell'aspetto ludico, può produrre conoscenza. Ok, quindi il fatto in questo caso riguarda come prima la percezione del fenomeno innanzitutto che poi sia mediaticamente amplificato oppure la stessa idea come dicevo prima che noi ci facciamo della questione per poi subito trovare una soluzione che magari non cade giusta rispetto, adeguata, in maniera adeguata rispetto a necessità di esempio pedagogico educativa. Prendiamo poi il discorso che a me interessa molto perché chiaramente c'è il lato hardware di cui parlavi ma c'è anche il software. E il software è dentro una scuola, dentro un territorio che è l'hardware, è la collettività che lo abita, saper sfruttare le risorse è esattamente quello che fa il software ma deve essere misurato, tagliato, un linguaggio di programmazione. Noi abitiamo dentro linguaggi e questa è anche una cosa da dire e le nuove generazioni decisamente vivono dentro linguaggi che non ci appartengono proprio come si diceva inizialmente e noi ci stiamo occupando ci sarebbe la X generation voi sapete dopo i baby boomers c'è la X generation da fine 60 a primi 80 l'84 potrebbe essere una data interessante per stabilire il cominciamento di una generazione di millennials che è sociologicamente antropologicamente molto interessante sono già vecchiotti hanno 33 34 anni questi ormai perché hanno avuto un'infanzia analogica e un'adolescenza digitale e quindi già cambiano le cose rispetto alla generazione X quello di cui stiamo parlando noi in realtà adesso viene chiamata iGen ad esempio i come iPhone generation oppure la generazione grossomodo nati intorno al 2000 che sembreranno giovani quando ci pensiamo il tempo è un abisso guardare nel baratro ma questi il prossimo anno votano nati nel 2000 e quindi è gente che ha vissuto questi sì tenete presente una data importante in Italia è il 98 per il Modem 56 ancora di più il 2002 circa per la DSL quelli che sono nati dentro con attività veloci che voleva dire scaricare un file di musica in 15 secondi e non in un quarto d'ora o un film in giorni e giorni con i sistemi di quella volta hanno vissuto modi diversi di vivere con gli strumenti tecnologici quotidiani quelli di casa un esempio che faccio spesso io e che mio fratello ha dieci anni meno di me ad esempio ma io dovevo alzarmi da piccolino e andare al televisore a mettere l'uno il due Rai 3 non c'era e Capodistria ma fisicamente e basta mio fratello a dieci anni meno di me è nato lui col telecomando è un nativo del telecomando quindi il suo modo di fruire il messaggio televisivo è completamente un altro al punto che poi è nato un genere letterario che è blob che proprio fa questo cioè mette in scena lo scanalare fare zapping di chi guarda in realtà non più guardo un film e vado a dormire guardo un film poi un pezzo poi giro cambio canale abbiamo costruito un messaggio complesso questo ha costruito la generazione dopo la mia che sono ancora millennials no ben prima sono ancora generazione X ha costruito già la loro affluizione e la costruzione del mondo della loro identità in un modo diverso poi quella successiva per arrivare appunto a quella dei nativi digitali gente che aveva due anni aveva un cellulare in mano tenete presente facebook iphone soprattutto un sacco di siti che guardiamo anche youtube pochi anni prima sono cose che hanno dieci anni sono del 2006 e hanno cambiato in dieci anni radicalmente il peso della significatività degli oggetti culturali un'informazione un'azienda uno scambio commerciale il mercato del lavoro qualunque giurisprudenza e così via questo è avvenuto per i ragazzini che erano nativi digitali e allo stesso modo la percezione di quello che stava accadendo dentro le famiglie da parte dei genitori sicuramente non si è evoluta con la stessa velocità diciamo così Biasoni cosa ci suggerisce a riguardo cosa ha visto concretamente vorrebbe essere acceso forse sì ma sentendo se vuoi parlare soprattutto adesso mi rendo conto di quanto sono indietro tecnologicamente cosa dire beh i genitori sono impreparati per un motivo c'è una grande solitudine fra i genitori e c'è una grande solitudine nel rapporto con i figli oggi più che mai la famiglia è bombardata da mille questioni vuoi il lavoro vuoi altre cose e è venuta a meno una delle cose fondamentali che nella famiglia le relazioni fra i membri e fra le generazioni è saltato un po' lasciamo stare la cura e l'educazione oggi le famiglie sono fragili e sono molto adolescenti direi è un termine non mio ho sentito più volte famiglie adolescenti che non sono più in grado di capire cosa vuol dire educare dei figli io ho l'esempio dei miei figli che ormai sono grandi e ho la preoccupazione vedendo i miei figli che affrontano lo stesso problema e quindi ogni tanto tiro le orecchie per modo di dire cerco di stare lì vicino però vedo un distacco anche fra me e loro soprattutto verso il bene comune allora cosa fare oggi io do dei dati per esempio a me ha sorpreso molto perché sono convinto che la cosa digitale sarà sempre di più io sarò uno di quelli a margine ma non è quello il problema il problema è l'uso che si fa del mezzo e quello che mi ha colpito è anni fa nel 2012 quando sono partiti i progetti per l'associazionismo familiare all'interno della legge 11 del 2006 quando era allora l'assessore Molinare in cui c'era un buon dialogo e c'è stata come una sfida bene mettiamo in cantiere sta roba sta progettualità cioè finanziamo questo articolo 18 che tra l'altro era un articolo sottoposto proprio dal forum a livello nazionale e cominciamo a vedere cosa viene fuori beh il risultato è stato questo la gente se cioè il risultato che c'è ancora della gente dei genitori che vogliono mettersi in gioco su 2 milioni e 6 che sono stati elargiti in quell'anno hanno prodotto beh si sono intanto presentate 160 associazioni costituite io tra l'altro mi ricordo in quei tempi davo una mano e telefonavo guardate che c'è il finanziamento costituitevi 160 in in tutta la regione in tutta la regione senza contare le altre che non si sono costituite che sono molte altre e il risultato è stato questo alla fine un servizio soprattutto in termini educativi quindi palo di dopo scuola aiuto lo studio attività integrative pre post accoglienze più pena più ne metta è vero che ci sono forse tanti fondi nella scuola ma in questa direzione da qui la scuola è carente cioè finita l'orario la scuola ha finito il compito e i figli dove fanno cosa fanno ecco queste famiglie che si sono messe assieme hanno prodotto questo tipo di bene un servizio a più di 10.000 famiglie quindi loro e altre diciamo che l'aspetto educativo rappresentava l'80% 3.030 volontari coinvolti 800 anzi 308 partner coinvolti quindi comuni 69 comuni erano e quindi un bene comune grandioso da quel punto di vista lì cioè le famiglie che si sono messe assieme per rispondere ai loro bisogni in termini educativi potrebbe essere della cura del mutuo aiuto e quant'altro io vorrei vedere oggi sul mutuo aiuto se non venisse fuori qualcosa del genere cioè il mettersi assieme è l'unica risposta anche perché oggi da soli è fatica si fa fatica a educare e domande riguardanti proprio il nostro argomento le questioni delle realtà digitali degli ambienti digitali del cyberbullismo in particolare vengono rivolte alle associazioni o tramite le famiglie cioè le famiglie sentono sì sicuramente lo sentono in questa debolezza sentono questo discorso l'unione fa la forza tra l'altro secondo me c'è bisogno di un'alleanza con la scuola perché la prima educatrice è la famiglia un'alleanza in cui ci sia si crei una stima e il forum a questo proposito ha lanciato anche un progetto che è immischiati a scuola vediamo se sono volentieri avvocato a lei forse a te forse viene facile restare per questa fase iniziale più ancorato maggiormente vicino a fatti concreti che accadono abbiamo due riferimenti appunto maggio giugno scorso la la proposta per la legge del la legge del cyberbullismo e l'uscita non si sa appunto quanto è stemporanea del ministro Fedeli riguardante l'introduzione dopo la circolare del 2007 di Fioroni Fedeli ha detto no che negava la possibilità del cellulare in classe quindi una generazione quasi di ragazzine cresciuta nascondendolo nell'astuccio fondamentalmente o imparando dei trucchi perché c'è la cultura dicevi anche tu no Luca del segreto del non detto l'omertà rispetto a alcune cose e questi sono argomenti su cui a questo punto sono decisamente usciti da quella quel calderone in cui non si comprendeva bene cosa vuol dire tecnologia scuola in famiglia perché sono diventate addirittura testo parole espresse no certo cosa dicono in preciso beh allora intanto vi ringrazio dell'invito e saluto tutti i presenti io mi considero un nativo analogico a cui a 11 anni nel Natale dell'86 venne regalato il primo computer non so se fu un bene o se fu un male però da lì è cambiato un po' quello che è stato il mio percorso di vita e prima di parlare di norme perché poi mi rendo conto che a quest'ora citare articoli e sciorinare commi possa non essere opportuno ma volevo condividere con voi una riflessione che mi porta in parte a recuperare concetti già espressi dai relatori che mi hanno preceduto io sono convinto del fatto che stiamo vivendo un'epoca storica straordinaria ed irripetibile in cui ci sono grandissime opportunità in cui è giusto considerare anche i problemi che ci troviamo ad affrontare e a risolvere ma sono convinto del fatto che avere un approccio consapevole a questi argomenti possa essere la chiave di volta rispetto al rischio di demonizzare lo strumento la tecnologia è e rimane uno strumento non è di per sé connotato da elementi né positivi né negativi tutto dipende dall'uso che ne viene fatto in ambito aziendale in ambito familiare nelle pubbliche amministrazioni nella nostra vita ovviamente il fatto che per ragioni che in parte sono state ricordate e che in parte intuiamo questi strumenti siano diventati così presenti così pervasivi così invasivi a volte nella nostra vita nel nostro luogo di lavoro nella collettività creano l'esigenza di affrontare questi temi lo fa anche il legislatore e lo fa nel modo che gli compete cioè con delle norme approvando delle nuove regole al gioco che disciplina la nostra vita in associazione ovviamente quando commentiamo una normativa sul cyberbullismo così come qualsiasi disposizione di legge che concerna in parte o in tutto gli strumenti informatici dobbiamo pensare al fatto che chi sta scrivendo queste norme sta facendo dei tentativi sta facendo delle prove di disciplina tra virgolette lo dicevo questa mattina in un corso di formazione lo dico ai miei ragazzi all'università il diritto civile che noi applichiamo quotidianamente nell'aula di giustizia in Italia ha 2000 anni di stratificazione normativa deriva dallo IUS di epoca romana il diritto d'autore è del 400 più o meno comunque nasce con Gutenberg quando con la stampa caratteri mobili si pone il problema di tutelare l'autore il diritto alla privacy è di fine dell'800 la maggior parte dei diritti di cui parliamo non hanno più di 30 anni è normale che chi sta cercando di dare delle regole a questo gioco possa sbagliare possa commettere errori di valutazione così come è normale che evolvendo la tecnologia con una rapidità alla quale l'uomo non era fino adesso abituato nella sua storia millenaria ci sia un po' il paradosso che il legislatore un po' come Achille con la tartaruga non riesca a stare al passo con questa evoluzione tecnologica e quindi è vero che effettivamente quando nel maggio scorso vengono approvate determinate norme ci si chiede poi a livello concreto come si faccia per esempio ad applicarle a nuove tecnologie Snapchat ne cito una che non è stata nominata ma che penso la dirigente avesse in mente quando diceva che non usano Facebook perché i ragazzi usano Snapchat ovviamente e Snapchat io ho cercato di capire come potrebbe essere arginata rispetto applicando questa normativa e allora spendo due parole su questa legge mi sono permesso di portare anche una piccola scheda che poi riassume i concetti chiave che poi sono quelli che anche ai genitori possono essere utili uscendo questa sera dicendo va bene ma se dovesse capitare domani mattina mio figlio che cosa faccio quali sono gli strumenti che il legislatore mi mette a disposizione allora è bene ricordare che per la prima volta meno da quando mi capita di studiare queste norme il legislatore nelle finalità che si prefigge adottando queste disposizioni precisa che ci sono azioni di carattere preventivo di tutela di attenzione e di educazione quindi viene citato un concetto che alleggiava ma che è già stato in parte richiamato che è quello di educare educare i ragazzi ma educare anche noi stessi sapendo che stiamo parlando di argomenti interdisciplinari che sono il confine il punto di incontro tra tecnologia diritto psicologia pedagogia sociologia e chi più ne ha più ne metta dove è impossibile gareggiare con i nostri figli mettendola sul tecnologico ci battono non abbiamo vie di scampo dove però il legislatore ci dice attenzione perché prima di punire prima di incriminare prima di perseguire sviluppiamo dei tavoli di lavoro sviluppiamo delle linee guida facciamo educazione nelle scuole informiamo i genitori e diamo anche degli strumenti che possono essere efficaci a risolvere il problema prima che a punire il responsabile come risolvo un problema connesso alla divulgazione online sui social media sulla rete della fotografia di un ragazzo la risposta è banale rimuovo la fotografia sembrerà come dire l'uovo di colombo però quello che dice in particolare l'articolo 2 di questa legge è che il genitore o anche il minore ultra 14enne può chiedere al gestore del sito al responsabile del social network di bloccare il messaggio di oscurarlo di rimuoverlo e quest'ultimo ha 24 ore di tempo per dare atto del fatto di aver preso in carico l'istanza e ulteriori 24 ore per porre in essere un comportamento che vada a rimediare il comportamento quindi abbiamo 48 ore per una rimozione e la domanda è se questo non avviene se non c'è un risconto nelle 24 o la rimozione nelle 48 ore la risposta del legislatore è ancora una volta molto semplice a livello di strumento ad operare cioè ci si rivolge al garante e lo si fa con una segnalazione o un reclamo che possono essere fatti per iscritto senza andare dall'avvocato senza pagare marche da bolo senza diritti di segreteria con una richiesta con la quale si va a circostanziare l'episodio la condotta si indica l'indirizzo quello che tecnicamente si chiama URL in cui viene in cui si trova il messaggio incriminato e il garante ha 48 ore a sua volta per provvedere voi capite che si tratta di un rimedio molto celere molto più veloce di quanto possano intervenire altri soggetti istituzionalmente proposti anche ad altre funzioni e soprattutto che contrasta e reprime fenomeni che potrebbero anche non avere rilevanza penale perché la difficoltà che sicuramente la polizia postale e la magistratura inquirente ha affrontato in questi anni è quella di trovarsi molte volte di fronte a comportamenti che non sono dei reati è vero c'è la diffamazione è vero c'è la minaccia è vero ci sono reati del codice penale che possono essere commessi anche online ma una denigrazione che o un tipo di diciamo pressione psicologica che non sfoci in questo comportamento ma che comunque rientri in quella che è la definizione normativa di cyberbullismo fino adesso era difficile ad arginare questo secondo me è uno strumento molto snello molto veloce che dà già un aiuto importante ai ragazzi e alle famiglie sì mi viene da pensare che possono essere facilmente duplicati quegli oggetti che sono una fotografia un video può arrivare viaggia velocemente su molti whatsapp viene condiviso rapidamente e inseguire quell'oggetto a quel punto diventa se a voi aggiungere qualcosa rapidamente se no proprio torno a passare la parola alla dirigente della polizia postale perché sono anche proprio dinamiche concrete su come fare a perseguire non dico trovare i colpevoli come nei film gialli ma comprendere proprio cosa vuol dire avere a che fare con un territorio che non si può toccare che è fatto di bit e non di atomi non c'è l'inseguimento in macchina sono d'accordo e prima di cedere il microfono completo questa riflessione con un ulteriore come dire elemento che sicuramente aggiunge problematicità all'intervento che è quello del fatto che molte volte la persona responsabile piuttosto che il server piuttosto che altri elementi della fattispecie sono all'estero quindi si trovano in uno spazio territoriale che è sottratto alla giurisdizione questo non vale solo per il cyberbullismo ma per la maggior parte di reati informatici non solo quindi capisco e sono testimone io stesso della difficoltà a intervenire quando tra le variabili di questa equazione ci si aggiunge anche questo aspetto senz'altro cosa fate voi di ogni giorno la difficoltà è proprio questa cioè metterci d'accordo sul concetto di rimozione perché la prima cosa che noi diciamo è che prima di immettere una foto o un qualcosa che ci raffigura sul web sulla rete dobbiamo essere consapevoli ecco un concetto di consapevolezza che il web non me la restituisce quindi restituzione rimozione sono concetti che sono molto labili ma giustamente l'avvocato diceva la legge è un primo tentativo ed è importantissimo perché per la prima volta è stato codificato il termine cyberbullismo e ha permesso e permetterà alla polizia alla magistratura ma anche ovviamente agli avvocati di non dover ricorrere ad altre norme del diritto penale che mal si attagliavano diciamo ad fenomeni che prevaricavano sulla rete ora la nostra difficoltà è non soltanto quella della rimozione restituzione ma della volatilità perché Snapchat io non so quanti genitori qui o quanti professori conoscono questo strumento lo conoscete? io non volevo fare i sondaggi però è importante questo avete Snapchat e lo usate? sulle mani qual è la caratteristica di Snapchat così come la caratteristica prima ancora di Telegram che però i nostri ragazzi non usano le 24 ore cioè quel filmato che io immetto tramite questa applicazione dopo 24 ore scompare quindi può succedere e faccio un'ipotesi che esistano situazioni di cyberbullismo che vengano create riprese immesse il genitore se ne accorge va alla polizia postale è una polizia postale si trova nella oggettiva difficoltà non parlo di impossibilità perché altrimenti il mio lavoro non avrebbe più senso di cristallizzare la fonte di prova perché l'avvocato sa esiste una distinzione tra fonte di prova e prova e questa è la grandissima problematica di questa materia allora come diceva giustamente l'avvocato la parola chiave qui è educazione e consapevolezza che è fondamentale perché ovviamente addirittura ci stanno studiando una nuova applicazione che è Monkey non so se lei lo sa che è stata creata da un ragazzino mi sembra di 15 anni che è una sorta di fusione tra Snapchat di Instagram c'è una cosa proprio fantascientifica la difficoltà è far capire che anche se quel video quella foto viene magicamente dissolta all'interno del sistema in realtà poi l'anonimato è in rete non c'è e in realtà poi quel video quel filmato che è rimasto in rete in memoria per 24 ore crea dei danni che sono permanenti perché a volte i nostri ragazzi ecco perché prima si minimizzava non si rendono conto della portata del gesto dell'episodio perché la crescita educativa e anche l'educazione alla conseguenza non va di pari passo con la crescita biologica perché oggi un ragazzino di anzi parlo di ragazzine perché le ragazzine sono le peggio le ragazzine di 13 anni quindi parliamo di seconda terza media che si sentono delle donne e che quindi usano lo strumento tecnologico con la consapevolezza e la cattiveria consentitemi perché purtroppo è così ne vediamo tante di colpire ma colpire in quel frangente in quel momento non si rendono conto che poi quel frangente in quel momento può durare per sempre con delle conseguenze che sono giuridicamente veramente molto pesanti è anche vero che la normativa come diceva l'avvocato non ci aiuta ma non perché non ci vuole aiutare perché abbiamo per esempio Facebook che ripeto è uno strumento che i nostri ragazzi non usano che ha delle policy diverse da noi dalle nostre e quindi diciamo ci aiuta tantissimo come collaborazione con le forze dell'ordine soltanto in due casi pedofornografia online e pericolo di vita in quel caso io in tempo reale posso avere tutto ma che se chiedo a Facebook di rimuovermi un video o una fotografia sapete che anche Whatsapp in realtà poi appartiene alla stessa famiglia trovo uno scoglio ma non perché non vogliono aiutare semplicemente hanno una normativa differente e quindi la rogatoria e qui vi sto a dire insomma i tempi sono biblici sono lunghi e a volte non si riesce ad ottenere quello che si vuole ottenere quindi per questo è importante non tanto capire cosa i nostri ragazzi usano e usarli per prima noi perché tanto tu capisci quello strumento e magari dopo una settimana due settimane un mese due mesi lo strumento cambia è importante far capire prima ancora dei nostri ragazzi che l'insegnante avevo preparato delle slide poi spero di potervele illustrare e anche il bidello nel momento in cui sono in orario scolastico con i ragazzini a scuola l'insegnante è un pubblico ufficiale e il bidello è un incaricatore pubblico servizio quindi ci sono delle regole di vigilanza di controllo ma soprattutto delle responsabilità che non si possono più diciamo dimenticare dicendo sono ragazzi no consapevolezza sulle conseguenze delle proprie azioni quella era la parola chiave che lei diceva inizialmente allora chiaramente neanche tanto questo perché l'avvocato lo sa meglio di me esiste il concetto di imputabilità né non imputabilità fino a 14 anni c'è una presunzione relativa di non imputabilità cioè devi dimostrare che in quel momento il ragazzino era capace di intendere e di volere a 18 anni si ha una imputabilità assoluta di fatti lei diceva seconda terza media esatto ma questo è diciamo il target quindi secondo me non è tanto il discorso uso il cellulare o non uso lo porto in classe come deve essere usato questo cellulare secondo me ecco io non sono d'accordo su questo perché secondo me in classe il cellulare non va poco portato è come quando si faceva la traduzione di latino e greco e si portava diciamo le versioni che già si conoscevano 2000-3000 si mettevano cioè il cellulare in classe non deve essere usato non ha senso perché c'è un orario di lezione si sta diciamo a ascoltare la didattica del professore il cellulare serve a cosa in classe niente magari serve più un tablet serve un computer per navigare insieme per capire quali sono i programmi da usare o non da usare per educare i nostri ragazzi ad una consapevolezza informatica ma l'uso del cellulare secondo me non serve anzi crea dei problemi anche sulla vigilanza nella utilizzabilità dello strumento perché può succedere che magari si preferisce anziché stare attenta alla lezione filmare la compagna che magari è un pochino più cicciottina delle altre e magari ecco si rischia poi di denigrarla attraverso una fotografia che viene messa sul gruppo insomma per non parlare poi dei filmati che si fanno nei bagni della scuola e arriviamo a cyberbullismo per trovare credo che Biasoni potrebbe raccontarci qualcosa di simile sull'argomento vero? cioè del cellulare in classe proprio ma più che dei cellulari in classe che sicuramente sono d'accordo che non andrebbero aperti o usati io credo che sia il problema quello del fatto che è sempre stato che i figli vogliono l'autonomia dai genitori a una certa età la chiamiamo adolescenza poi può essere più o meno presto e i genitori per controllare i figli no? e quindi comprano il cellulare ma un conto al cellulare è un conto che mettono anche internet a me viene in mente quando avevamo fatto un incontro tempo fa in cui c'è un'autrice americana che ha fatto un libro con un decalogo no? in cui diceva esattamente le condizioni per cui dava il cellulare al figlio era un contratto con il figlio? un contratto con il figlio io te lo compro ma ricordati che i soldi sono miei quindi è mio in qualsiasi momento ti può essere tolto a fine serata posso controllare eccetera eccetera però io credo che se un genitore è un educatore ha questa responsabilità cioè vede se il figlio ha dei problemi se si isola quando viene in casa non c'è il dialogo il problema lì l'educazione comporta coinvolgimento non esiste la qualità dell'educazione può esserci anche questa ma è la quantità se no i nostri poveri genitori erano fatti fuori perché in quanto di sapere educare cioè tecniche non le conoscevano stavano dietro i figli allora credo che uno si debba accorgere e si può accorgere anche la scuola io ho fatto fino al 2010 l'insegnante non c'erano questi problemi però mi accorgevo cioè c'è una passione se no fare l'insegnante è una una vocazione come fare l'infermiere di cui almeno me lo dicevano quindi se non c'è questa chiaro uno fa la surrezione amorfa chi se ne frega e via ma come diceva giustamente la polizia postale c'è una responsabilità oggi allora in questo in questo frangente io credo che mai come oggi ci voglia questa alleanza educativa cioè una stima fra insegnanti e genitori e che si mettano insieme per controllare questa cosa stima vuol dire non controllare vuol dire sorvegliare vuol dire tenere monitorato vuol dire quali sono possibili perché sono sfumature diverse dell'intervento e qualcuno magari di queste sfumature esce dall'aspetto educativo sì può voler dire anche controllare può voler dire anche sorvegliare ma può voler dire anche come dire essere attenti i due attori visto che i figli il tempo lo passano a scuola per una buona parte in famiglia essere attenti ai piccoli segnali quindi dialogare tra insegnanti e genitori c'è qualche problema il genitore non deve avere problemi a dirlo mi rendo conto che è difficile certamente è il nodo della questione nella comunicazione scuola-famiglia la comunicazione sono argomenti magari delicati e si preferisce passare sotto silenzio anche con chi esattamente dovrebbe essere pronto ad ascoltare certe tematiche tra famiglie tra associazioni con insegnanti immagino ma certo ma per quello dicevo prima l'esperienza di queste associazioni che sono nate in maniera preponderante con un finanziamento che stanno facendo un buon lavoro con tante scuole in cui si crea questa sintonia questa alleanza questa stima non è sempre detto con tutti però l'importante è iniziare fa da volano questo è un esempio è un esempio che trascina poi anche le altre famiglie e non c'è altro è un rischio il rischio educativo è questo bisogna mettersi in gioco il fatto stesso che il forum in occasione delle elezioni abbia voluto lanciare questo progetto che si chiama immischiati a scuola i genitori devono partecipare all'attività scolastica attraverso gli organi collegiali secondo le loro competenze ma devono entrare altrimenti non sono degli educatori non possono dire che educano i figli fregarsene di un aspetto importante che è la scuola anche perché sono loro i primi responsabili se succede qualcosa la scuola può essere chiamata l'insegnante per omissione ma il genitore che colpa ha ancora di più per omissione di educazione se non morale se non altro morale è una colpa ancora più grande che si trascina per tutta la vita anche se non fosse accusato cioè la preoccupazione poi tutti si sbagliano nessuno nasce il genitore io stesso avendo educato i miei figli ho avuto mille difficoltà però la passione e l'amore mi faceva sì che non c'erano rapporti di amicizia come oggi si tende a fare c'era un rapporto di educatore di un adulto che si poneva secondo i suoi valori e non predicava e razzolava male come magari ha fatto mio papà cercava di essere coerente però mi viene in mente no no certamente è gigantesco mi viene in mente che io potrei insegnare a mio figlio ad andare in bicicletta perché a me mi hanno insegnato ad andare in bicicletta una persona più giovane di me non posso insegnargli il cellulare perché nessuno mi ha insegnato a otto anni a usare il cellulare quindi quel passaggio intergenerazionale transgenerazionale di competenze su lealtà franchezza saper stare al mondo ciò che è giusto ciò che è sbagliato le cose grosse non può essere in molti settori in questo momento attuata perché questa generazione anche un paio sono le prime a vivere stati del mondo condizioni di realtà prima mai viste non è mai successo che io possa trasmettere un disegno di una casa di un architetto all'architetto che è in Giappone il quale continua a lavorare sul progetto che quindi viene realizzato in metà del tempo perché lo lavoriamo su 24 ore contemporaneamente e questo accade con la Ferrari con le altre con tutte quante con qualsiasi aspetto della realtà l'altra cosa è che no niente non importa le puntate di restare lì il cellulare viene qualche anno fa veniva regalato fra la terza media e la prima superiore non è più vero si regala in quinta elementare cioè tra la quinta elementare e la prima media io rimango particolarmente sintonizzato sulle scuole medie secondarie di primo grado perché lì c'è l'uscita verso il gruppo dei pari iniziale pesante significativa nell'esistenza nella vita dei ragazzini non sono più dentro la famiglia non c'è sono le maestre ci sono i professori diventa importante il gruppo dei ragazzi coetanei ma è ancora un gruppo chiuso se fossimo un altro parallelo è quando avevo otto anni in bicicletta potevo andare nel quartiere quando avevo tredici potevo andare fino in centro quando avevo quattordici anni avevo il motorino potevo andare dove volevo dicendolo o non dicendolo ai miei cioè l'orizzonte di quello che io posso vivere alle medie accadono cose importanti da questo punto di vista poi forse le superiori sono già più liberi sono meno prigioniere ad esempio dei gruppi chiusi di facebook tra di loro tra i ragazzini con cui non posso parlare con quello ci ho litigato quindi non fa parte del gruppo meccanismi in gruppo e di out gruppo dentro e fuori dal gruppo dinamiche pesanti quelle situazioni di ricatto di mancata consapevolezza delle proprie azioni per arrivare all'argomento sempre quello di nuovo lo smartphone è centrale è lo strumento è la porta che loro hanno per accedere al mondo i ragazzini in questo momento e ce l'hanno in mano alle medie anche in maniera ufficiale adesso a seguito della circolare o della comunicazione estemporanea della ministra Fedeli la scuola prima si parlava di hardware e di software in questo caso qua l'argomento del software cioè competenza da parte degli insegnanti ma non solo per la didattica fare delle cose insegnare storia matematica col cellulare in qualche modo quando è nato Garibaldi gli insegnanti possono affrontare o esiste una progettualità che riguardi in che modo rendere effettivo fecondo l'utilizzo dello smartphone a scuola beh a corsi di formazione rivolte agli insegnanti ce ne sono tanti sull'utilizzo delle tecnologie però come dicevo prima partono sempre da un presupposto sbagliato cioè insegnano a utilizzare lo strumento l'hardware ma non il software prima c'è stata una considerazione importante per quanto riguarda il rapporto famiglia istituzione scolastica io credo che sia stiamo vivendo un momento molto difficile da questo punto di vista perché non solo nel rapporto fra scuola e famiglia ma più in generale nella società in cui viviamo sta avvenendo meno il rispetto per i ruoli e per le competenze e quindi c'è un tentativo anche di prevaricare di sostituire quello che è il ruolo del docente o quello che è il ruolo del dirigente tutti sono convinti di poter essere degli insegnanti anche se magari fanno un altro mestiere e hanno la pretesa la presunzione di andare dagli insegnanti e di rivolgersi magari anche con tono arrogante spiegando no ma tu sbagli ad educare così mio figlio ecco questo è un punto molto pericoloso che stiamo vivendo che stiamo cercando come istituzioni scolastiche di arginare però lo viviamo quotidianamente relativamente al discorso del cyberbullismo la legge 71 che è appunto la legge sul cyberbullismo definisce in modo chiaro quelle che sono le responsabilità soprattutto dell'istituzione scolastica ma anche della famiglia cioè il dovere educativo della famiglia non conosce soluzioni di continuità molto spesso gli insegnanti i genitori capita già alla scuola dell'infanzia sono convinti che la scuola sia una sorta di baby parking di parcheggio e io genitore scarico sulla scuola tutte le responsabilità dal punto di vista educativo e dal punto di vista della vigilanza ora questo non può essere i genitori devono sapere che il dovere educativo non conosce soluzioni di continuità pertanto se tuo figlio si comporta male a scuola rispondi tu come genitore magari rispondiamo anche noi come istituzione scolastica perché dobbiamo dimostrare cosa abbiamo fatto per educare tuo figlio in questo caso all'utilizzo delle nuove tecnologie ma rispondi anche tu come genitore l'aspetto rischioso per la scuola legato proprio alla legge 71 è dato dal fatto che la colpa in educando e anche la colpa in vigilando per certi aspetti si estende anche al di fuori dell'ambito scolastico cioè se un nostro studente offende o compie reati legati al cyberbullismo al di fuori della scuola alle sei del pomeriggio e offende il proprio compagno e commette un'infrazione o un reato bene la scuola può essere chiamata in causa cioè deve dimostrare il dirigente scolastico nella fattispecie di aver fatto di aver messo in atto determinate strategie per fare in modo che quel ragazzo fosse educato ad un utilizzo corretto di questi strumenti e il dirigente cosa fa? allora il dirigente da quest'anno in modo particolare anche sulla scia di quello che prevede la legge 71 deve mettere in atto degli strumenti di tipo preventivo e di tipo repressivo per esempio si parlava del rapporto scuola famiglia il patto educativo di corresponsabilità che in alcuni istituti viene stipulato con le famiglie in altri istituti invece questo è uno strumento che viene sottovalutato ma è uno strumento anche di tipo giuridico molto importante perché questo patto che andrebbe aggiornato noi per esempio la sesta compressiva l'abbiamo fatto andrebbe aggiornato con riferimenti puntuali ai contenuti della legge 71 questo patto impegna la scuola e le famiglie a seguire una identica filosofia educativa quando il genitore sottoscrive questo patto vuol dire che lui condivide la progettualità educativa della scuola molto spesso le famiglie firmano ma non leggono il patto è uno strumento importantissimo e ci sono anche genitori che non sottoscrivono questo patto non rendendosi conto che così facendo in caso di reati legati per esempio alla legge 71 il fatto di non aver e l'avvocato mi può correggere da questo per se sbaglio da questo puntino il fatto di non aver sottoscritto questo patto può essere un elemento probatorio per dire io dirigente scolastico ho messo in atto queste strategie tu genitore non hai condiviso queste mie strategie adesso tuo figlio si comporta in questo modo ha commesso questo reato rispondi tu genitore nel momento in cui non hai firmato questo patto eri prevenuto non condividevi la linea come dire la filosofia educativa della scuola perché hai scelto questa scuola quindi sono strumenti che molti magari sottovalutano ma che sono molto importanti noi abbiamo anche dovuto quest'anno individuare la figura del referente contro il bullismo contro il cyberbullismo certo ti volevo giusto chiedere nei regolamenti scolastici sono esplicitate queste posizioni è un protocollo assolutamente non è che domani succede qualcosa dovete inventarvi no anche il regolamento di disciplina deve essere modificato alla luce dei contenuti della legge 71 bisogna attivare gli sportelli d'ascolto bisogna potenziare i rapporti con la polizia postale c'è tutto un protocollo che deve essere seguito dai dirigenti scolastici perché nel momento in cui succedono queste azioni e la scuola non ha fatto niente non può dimostrare in modo tangibile di aver fatto qualcosa ci sono dei problemi enormi per il dirigente scolastico per i docenti e se noi veniamo a conoscenza di un reato di questo tipo il docente ha il dovere di segnalarlo subito anche al dirigente scolastico perché bisogna muoversi in maniera sinergica non è che il docente va dalla polizia postale senza informare il dirigente eccetera cioè bisogna seguire io ho fatto una formazione nel mio comprensivo un mese fa proprio su questo tema spiegando quelli che sono quelli che sono proprio le modalità operative che cosa dobbiamo fare nel momento in cui veniamo a conoscenza del fatto che un nostro alunno ha fatto qualcosa ha commesso un'infrazione o un reato legato proprio al problema del cyberbullismo allora soltanto una piccola precisazione se tu dici nel momento in cui mi rendo conto che è successo qualcosa che si compie un reato è una punta dell'iceberg che diventa visibile a quel punto no? e quello che riguarda invece l'ascolto di quello che è ancora sotto di qualcosa che avviene con che modo poter monitorare il clima di una classe o di una scuola lo stile conversazionale identificare personaggi che magari sono non so tutto quanto quello che sono segnali deboli però è necessario ascolto per la crescita la parola chiave fondamentale credo di qualunque teoria pedagogica degli ultimi cento anni in che modo è possibile attuare strategie a quel punto scolastiche magari formalizzate o meno dentro i regolamenti che prevedano una capacità di porre l'attenzione l'insegnante o il dirigente anche a piccole cose che fino a ieri magari appunto non riguardavano la scuola ma oggi con le tecnologie diventa rientrano all'interno di una ottica educativa ci deve essere un filo diretto tra la scuola e la famiglia un filo diretto tant'è vero che nel momento in cui veniamo a conoscenza di situazioni a rischio noi abbiamo il dovere se questo non costituisce reato di chiamare subito la famiglia di informare la famiglia e di trovare insieme alla famiglia le soluzioni più opportune quindi ci deve essere sempre un'apertura un dialogo cosa che non è sempre facile come dicevo prima i nostri insegnanti hanno una capacità straordinaria che è quella di sapere ascoltare e hanno sviluppato la capacità di captare dei segnali di allarme io porto l'esempio dei miei due comprensivi perché sono dirigente al sesto di Udine nella zona di Udine Est per capirci e sono dirigente reggente anche a Rivignano quindi nella zona della bassa duemila studenti quotidianamente ricevo segnalazioni di malessere segnalazioni di difficoltà segnalazioni di soprusi che magari vengono perpetrati anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie e lì la prima cosa che facciamo è confrontarsi con i docenti ma confrontarsi con le famiglie e anche un'altra strategia molto utile è chiamare i ragazzi parlare con i ragazzi non parlare ex catedra ma facendo capire loro che anche noi siamo stati ragazzi questa è una cosa che va sempre lo dico molto spesso anche ai miei insegnanti cioè non dimentichiamoci mai del fatto che anche noi abbiamo avuto la loro età anche noi abbiamo avuto le loro fragilità i loro dubbi le loro paure quindi non dobbiamo far calare dall'alto delle risposte ma dobbiamo metterci nei loro panni e trovare insieme delle soluzioni anche e soprattutto con le famiglie avete anche ambienti di comunicazione digitale scuola famiglia ma allora c'è il registro elettronico che è uno strumento ma insomma che consente alle famiglie di monitorare soprattutto l'andamento del profitto no no più informale più conversazionale no personalmente con alcuni genitori l'ho fatto anche ieri per esempio con alcuni genitori che vivono situazioni di difficoltà con i loro figli fornisco immediatamente il mio indirizzo di posta elettronica per essere contattato in qualsiasi momento per ricevere delle segnalazioni intervenire in maniera proprio tempestiva whatsapp telegram no però non è peregrina l'osservazione no assolutamente ma nel momento in cui la scuola dice siamo presenti Luca mi no Luca scusami Davide mi scrive Andrea mi dice se il problema è snapchat perché non lo è rendiamolo illegale mi dice no ma chiaramente credo che sia una provocazione perché Google Facebook Amazon sono le prime aziende al mondo su qualunque quotazione di borsa e non è che stiamo parlando di un'aziendina però desidero rispondere alla provocazione il problema non è snapchat il problema è la persona che usa snapchat in modo non lecito così come il dipendente che viene mobizzato attraverso strumenti elettronici così come la donna che viene fatto oggetto di atti persecutori dall'ex attraverso i social ha ragione la dottoressa quando dice che c'è prima il bullismo e poi il cyberbullismo così come c'è prima lo stalking e poi il cyberstalking il mobbing e il cybermobbing e avanti così questo non vuol dire però mi pare di averlo detto all'inizio demonizzare lo strumento se posso invece prendere le mosse da quanto diceva il dirigente sulla responsabilità perché poi ovviamente le nuove tecnologie stanno io continuo a chiamare le nuove tecnologie anche nel 2017 mi perdonerai ma è un rettaggio un po' e stanno stanno creando e spostando la frontiera della responsabilità giuridica allora cerchiamo anche qui di capirci noi abbiamo e l'abbiamo già sentito dire a livello penale delle soglie che sono abbastanza chiare io ho 14 anni che è il limite di imputabilità e tra l'altro è un'età una soglia che rispetto a questa tematica è abbastanza singolare ho 18 anni la piena responsabilità penale ma non dimentichiamo perché in questo contesto è giusto farne un cenno al profilo civilistico cioè alla responsabilità del genitore piuttosto che della scuola nel momento in cui viene cagionato un danno ora la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di occuparsi di approfondire queste tematiche se andiamo a scorrere le sentenze dei tribunali piuttosto che quelle di legittimità a livello di corte di cassazione notiamo che ci sono delle sentenze che riguardano il caso del bambino che ha spinto il compagno di classe che si è rotto il dente di quello che ha avuto un comportamento nei confronti del compagno anche lì insomma poco ortodosso e quindi le casistiche sono limitate a risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali che derivano da questo da questo contesto ma non credo di essere un falso profeta se dico che da qui a qualche anno assisteremo nell'aula dei tribunali a discussioni in ordine a responsabilità del genitore e o della scuola rispetto a questi fenomeni e qui il richiamo alla culpa in educando da un lato e in vigilando dall'altro non è assolutamente fuori luogo qual è l'orientamento in questo momento per capirci sto parlando sempre di fatti specie che non hanno a che vedere con il cyberbullismo si fa questo ragionamento la Cassazione fa questo ragionamento quando un minore è molto piccolo è evidente che per quanto bravi possono essere stati i genitori per quanto bene possono averlo educato nel momento in cui si trova con gli altri bambini e succede il fatto illecito che cagiona danno a terzi quindi fatti specie del 2043 per intenderci ahimè è chiaro che doveva essere sorvegliato un bambino di 4, 5, 6, 7 anni si viene lasciato in cortile spinge il compagno e non c'è nessuno a controllare e non si può tirare le orecchie al genitore non si può diciamo fare causa alla famiglia perché non ha educato bene il bambino viceversa dice la Cassazione più ci si avvicina alla maggior età quindi un ragazzo adolescente di 15, 16, 17 anni e più cala la responsabilità della scuola in termini di vigilanza e aumenta la responsabilità del genitore in termini di educazione quindi traslando questo ragionamento che è uno schema che per l'amor di Dio può essere superato e anche la Cassazione ci ha abituato anche a dei cambi di rotta nelle interpretazioni nella sua funzione nomofilattica ma voglio dire applicando lo stesso schema al cyberbullismo o a eventuali danni che possono essere cagionati soprattutto non patrimoniali quindi parliamo di un'afflizione di danni esistenziali di situazioni che cagionano un malessere in questi ragazzi bene se io sono il genitore e decido di fare un'azione civile nei confronti dei genitori dell'altro bambino piuttosto che della scuola voi capite che lo scenario che si può trovare dinnanzi è un po' quello che adesso ho rappresentato in sintesi e ancora una volta la tempistica l'ho detto prima di queste questa è una norma di maggio scorso giustamente si faceva riferimento a quelle che devono essere ancora le misure da porre in essere perché qui c'è c'è una buona lista diciamo della spesa ma poi quello che sarà l'attuazione pratica è ancora da verificare in concreto però ripeto teniamo in considerazione anche l'elemento di responsabilità civile nella valutazione complessiva del fenomeno non solo quella penale non solo l'intervento del questore che peraltro ha un ruolo importante nel momento in cui dovrà esserci l'ammonimento è certo nel momento in cui non c'è la notizia di reato comunque il questore come già viene a proposito di stalking e non a caso richiamo la normativa è quello può chiamare a sé il ragazzo alla presenza del genitore ovviamente parliamo del soggetto che ha commesso la condotta illecita e procedere all'armonimento con tutte le conseguenze che questo poi comporta anche nel caso di reiterazione tra virgolette del comportamento stesso e quindi di valutazione di una condotta che vada a reiterarsi nel tempo per arrivare verso possibili soluzioni oltre a quelle educative oltre a quello che abbiamo sentito finora volevo fare un ricordare questa cosa allora già vent'anni fa c'erano i computer quando ero ragazzo io chi sapeva cambiare il carburatore del ciao era un idolo del gruppo ovviamente aveva delle competenze si diceva per poter emergere e essere ricercato poi a fine 90 primi 2000 quello bravo con il computer quello che sapeva aggiustarlo chi trovava i software da poterle gratuitamente utilizzare diventava un po' una figura di riferimento all'interno del gruppo dei ragazzini e delle ragazzine poi è diventato sapere andare in certi posti sul web conoscere i siti più strani più orripilanti più strani più divertenti che ci siano competenze che si potevano giocare ma già erano diventate competenze sull'immateriale io mi ricordo che quando si cercava un software ormai non si fanno più queste cose si scaricava un punto ex cioè un eseguibile del computer per installarlo sul computer e comparivano delle schermate che vuoi installare sì vuoi fare questo sì sei sicuro che sì e dicevamo sì senza leggere senza guardare lo facciamo con le app uguale sì sì installa sì tranquillo e lì vi stanno dicendo delle cose perché quello che stanno dicendo allo stesso modo 13 anni all'età dicevamo con cui vengono reputate persone capaci di intendere di volere i ragazzini no per iscriversi sui social network bisogna avere 13 anni e questo è paradossale e nessuno va a leggersi quello che è un vero e proprio contratto che noi sottoscriviamo al momento dell'iscrizione con le app con i siti di social network allora la notizia di ieri è su Wired che riprende un articolo inglese il garante dei minori inglesi in compagnia di un'associazione e di un'azienda in particolare ha fatto innanzitutto un piccolo sondaggio e ha chiesto ai 13 anni 14 anni se di leggere il contratto che magari avevano appena firmato per Instagram per Snapchat per Facebook e se riuscivano a farne un sunto cos'è che hai appena letto cos'è che di cosa stai cos'hai firmato dando quello che hai esprimendo la tua volontà chiaramente nessuno dei 14 anni è noioso non ho capito niente non vuol dire nulla non importa l'importante è poter accedere e perché in realtà il contratto che ti sottopongono non dico che sia in legalese come siamo abituati nelle aule italiane ma decisamente è un contratto serio con tutti quanti i crismi allora cos'è successo hanno fatto il garante inglese nella notizia di ieri magari è appena stata messa e attuata la cosa messa in pratica come anche per certi software per Ado c'è la versione plain language linguaggio normale che sono due pagine non 17 cartelle di burocratico di termini giuridici e per tornare all'aspetto educativo dice fa l'esempio di facebook e tu gli stai dicendo nel momento in cui dice di sì che tutto quello che gli dici quando costruisci l'account come si diceva prima diventa proprietà di facebook degli social network su cui noi ci iscriviamo comprese fotografie tutto il nostro dire e così via le pagine che vedi vengono a sapere quanto tempo ci passi sopra con chi parli che device stai utilizzando che browser che rete che indirizzo ip quindi dove sei chi sei chi sono i tuoi amici come sei fatto sei tu che glielo stai dicendo questa cosa dettagli su quello che pubblichi a chi a cosa metti un mi piace qualsiasi cosa condividi o contenuto in cui tu sia taggato qualsiasi cosa con un altro condivide in cui tu sei taggato sei sincronizzata anche cosa e chi ci trovi nella tua rubrica del telefono perché le app vi chiedono posso accedere alla tua galleria di fotografie nel caso tu voglia pubblicarle tu gli dite di sì ovviamente figuriamoci il 14enne che si sta apposta scrivendo a Instagram per pubblicare le sue foto quindi deve dire di sì se no non può funzionare e quindi quel social network viene a sapere tutta quanta la nostra vita tenete presenti in termini bassamente marketing per un social media manager questa è la miniera d'oro dei social network non è che ci vengono niente quello che vendono siamo noi che riempiamo i contenitori ma poter profilare noi come utenti vuol dire poter accedere a risorse preziosissime che poi vengono vendute a terze parti vengono fuori i banner quelli personalizzati voi andate a cercare su Google Tosa Erba tornate su Facebook anche se eravate usciti da Facebook slogati tornate su Facebook e avete in parte pubblicità di Tosa Erba no? perché questo è la vera miniera d'oro quello che l'economia in cui stiamo vivendo noi ovvero questi qua in Inghilterra hanno fatto questa se compri una cosa via Facebook il dettaglio della tua carta indirizzo e cosa hai comprato la tua batteria la potenza di segnale dove ti trovi se accedi a un altro sito sei tracciato con i cookies che ovunque tu vada e vengono così via questo non sanno i ragazzini cioè l'universo gigantesco di dati che loro stessi forniscono con le loro conseguenze nel momento in cui accedono ai social network io volevo chiedere a Fabrizio ma anche per raccontare proprio di anche quest'ora faceva riferimento inizialmente abbiamo valutato l'aspetto educativo non è che ti faccio tirare le fila dell'intera discussione perché abbiamo visto sono decine di ambiti possibili da cui guardare e su cui poter agire anche rispetto al problema ma c'è un aspetto hardware un aspetto software c'è un aspetto di cose che si possono fare per migliorare ognuno di noi come persona come genitore come insegnante come dirigente e restare aggiornati su queste innovazioni tecnologiche che sono innovazioni umane della comunicazione tra le persone fondamentalmente ma ci sono per fortuna anche possibilità con la tecnologia stessa di aiutarci rispetto a questo problema tu della questione educativa della fiducia del patto generazionale della comunicazione scuola-famiglia come l'hai sentita come ti è arrivata a questo e come pensi di poter poi in seguito risolvere il gigantesco problema che abbiamo affrontato risolvere un parolone grande per quello mi sono messo a ridere certo esattamente però se mi consenti parto da un'informazione che non è un dato ma è una sintesi di un'analisi sociologica perché davanti a certe informazioni da lì dobbiamo soffermarci e partire a riflettere lo leggo tanto perché non voglio dimenticarmi l'ottanta per cento dei ragazzi considera normale insultarsi sui social l'ottanta sei non ritiene grave le conseguenze per la vittima e il sessanta per cento non ritiene grave pubblicare foto non autorizzate e da qua parte tutto il discorso e raccolgo in sintesi ciò che hanno detto perché l'applicazione che noi abbiamo studiato in realtà non è un'applicazione in senso stretto tecnicamente lo è ma è un concetto più ampio è un ecosistema sociale perché tende a supportare con le applicazioni operative per le famiglie e per le scuole tutto questo sistema di raccordo di coesione di relazione tra famiglia e scuola associazioni quindi istituzioni affinché i ragazzi possano essere resi maggiormente consapevoli e soprattutto partecipativi perché non dimentichiamoci che è di loro che stiamo parlando quindi se il primo elemento di attenzione è quello che ci siamo posti nel incominciare a intraprendere questo percorso due anni fa era quello di proteggerli di farli vivere in un mondo più sicuro in realtà poi abbiamo visto allargando il quadro che c'era anche una forte componente educativa ed ecco che ovviamente non posso essere che d'accordo con quanto ha detto la dottoressa Bellardini e qualcun altro non sono gli strumenti tecnologici il problema sono come li utilizziamo sono dei amplificatori propagatori di quello che succede dei comunicatori tra la vita reale e quella virtuale ed è come vengono utilizzati e quindi ciò che abbiamo notato e abbiamo cercato di dare una soluzione facile agile performante era quella di far sì che nel momento in cui un ragazzo venisse a essere soggetto scusate oggetto o soggetto in realtà perché c'è la vittima e c'è il bullo di una attività di cyberbullismo di hate speech che sono i messaggi d'odio che come sappiamo provengono da hanno origini completamente diverse dal cyberbullismo in senso stretto sono problematiche che originano da condizioni sociali religiose culturali razziali quindi vanno declinate e sono declinate in un modo diverso abbiamo deciso di risolvere il primo aspetto quello di informare la famiglia affinché potesse intervenire in tempo utile perché perché ha detto Biasoni c'è questa specie di mancanza assenza di comunicazione non sto né a giudicare né a elincare quali sono i motivi per cui ciò avviene ognuno di noi sa quali possono essere ma esistono e quindi nel momento in cui un ragazzo è in difficoltà soventemente la famiglia non lo sa c'è un dato vabbè adesso non per dare un'informazione numerica ma su 11 milioni di casi in Europa meno del 29% dei genitori era consapevole che la cosa stava avvenendo quindi questo è come dire rappresentativo di ciò che ha detto non riusciamo a comunicare e l'altro diciamo ambito collegato strettamente collegato è quello della scuola dove c'è una necessità di educare di informare di accompagnare a una vita più matura e a un utilizzo più consapevole diciamo di questi strumenti e anche di poter fare in modo che uno strumento di supporto all'insegnante all'educatore al dirigente come un'applicazione dedicata e rivolta a loro di consentisse di essere più confortati più vicini anche a quello che sono già le percezioni che loro hanno quotidianamente vivendola questa realtà e quindi se da una parte c'è un qualche cosa che opera in attività di attenzione e prevenzione in un momento topico dall'altra c'è un percorso che è un percorso più lungo un percorso dove bisogna coinvolgere i ragazzi bisogna renderli partecipativi e bisogna renderli soprattutto consapevoli il cyberbullismo è un qualche cosa è una trasposizione di ciò che è un'attività che esiste da decenni io come dice mia figlia ho una certa perché ho una ragazza di 33 anni e quindi mi ricordo ai miei tempi a scuola il bullo c'era ovviamente veniva gestito e arginato in un altro modo ora è difficile farlo con quelle metodologie che si usavano una volta e la comunicazione attraverso i social è dirompente e propagande e quindi non si può fermare quindi il problema è che i ragazzi sono totalmente inconsapevoli del livello di ostilità del linguaggio che utilizzano normalmente sui social e questi sono dati che provengono da analisi sociologiche fatte da fondazioni internazionali che studiano quotidianamente questo problema ed è lì il problema è un problema di educazione nel senso stretto del termine non soltanto nel senso di tipo digitale e questa mancanza di consapevolezza è un qualche cosa che amplifica il fenomeno e quindi poter dare offrire uno strumento a una scuola che consenta ai ragazzi di rendersi consapevoli interagendo con questi sistemi di intelligenza artificiale quindi parlando in questo modo è voluto per loro interessante intrigante gli consente di rendersi conto ovviamente il ruolo dell'educatore è sempre presente perché è sempre mediato da un insegnante questo rapporto e poi dopo aiutare il dirigente a comprendere tramite una mappatura quali sono stati i livelli di rischiosità che ha affrontato nel corso dell'anno e quindi scusami c'è un problema di privacy però forse ma il problema di privacy in realtà e torniamo all'argomento diciamo anche dello strumento no la privacy qua bisogna separarla un attimino tra quella che la privacy all'interno di un rapporto familiare e quindi il consentire la possibilità di essere informati senza però possedere un controllo della vita del nostro figlio e quindi lasciargli la massima libertà affinché non si senta continuamente osservato ci sono ovviamente dei casi eccessivi in cui i genitori utilizzano o ti prendo il telefono e te lo guardo ogni 5 minuti quando voglio oppure installano dagli spyware quindi degli strumenti che gli consentono di vedere tutto ciò che accade è il momento in cui il ragazzo scopre questo chiaramente ovviamente si rifiuta quello che noi abbiamo tentato di fare è proprio di risolvere questo problema cioè il far sì che ci fosse una serenità in famiglia la serenità che lo strumento consente perché il genitore è informato nel momento in cui qualche cosa avviene di problematico e il ragazzo altrettanto sicuro perché sa di non essere controllato cioè non c'è permeabilità consentita dal sistema che fa sì che il genitore guardi tutto ciò che accade e lega tutto ciò che fa sui social il figlio è certamente un rapporto etico all'interno del gruppo del gruppo familiare e quindi ovviamente la fiducia reciproca ci deve essere ma anche laddove crescendo ovviamente questo rapporto di fiducia in realtà si trasforma in indipendenza no? quindi io voglio essere un po' più indipendente beh è necessario che i ragazzi comprendano che essere aiutati nel momento importante del problema è fondamentale e quindi uno strumento che non dà a loro un'invasività nella loro attività quotidiana è qualcosa che li rende comunque fiduciosi e sereni dall'altra parte la privacy all'interno di quello che invece è l'interazione in uno strumento educativo in realtà in ambito familiare ok qui c'è nell'armi lo scolastico no perché è fatto in modo che i ragazzi possano interagire in forma assolutamente anonima perché ciò che conta non è chi ha scritto cosa o chi ha sentito cosa ciò che conta è che cosa è stato detto e che cosa è stato diciamo fatto o chi ha testimoniato di un fatto di cyberbullismo e che consenta poi di discuterne insieme agli altri una volta che il sistema ha raccolto questa informazione e quindi l'insegnante torna nel suo ruolo educatore e dice parliamone discutiamone cerchiamo di capire quindi faccio un esempio specifico è la possibilità di appunto essere di scrivere delle frasi di aver sentito dire o aver subito o aver anche detto e il sistema gli aiuta a comprendere che queste frasi che loro magari percepiscono come non essere afferenti a una problematica del cyberbullismo di messaggio d'oglio invece lo sono e poi di conseguenza questo fatto emerge e l'insegnante può come dire affrontare insieme a loro una discussione aperta e sollecitarli e renderli ancora più consapevoli quindi prendere il polso prendere il polso su un fatto oggettivo e lo stile conversazionale cioè proprio ciò che accade nella realtà di ogni giorno viene messo sul tavolo e se ne parla Instagram Facebook i social maggiori ovviamente mano a mano che i social evolgono e questa è un'altra particolarità che è stata affrontata oggi non abbiamo nel tempo né a volte la conoscenza noi stessi di stare dietro all'evoluzione tecnologica di questi strumenti per cui come nella vita normale un genitore non ha il tempo di fare tantissime cose sicuramente non ha il tempo di andare a controllare il telefono di un figlio e riteniamo anche che possa essere non corretto da un certo punto di vista e quindi il potergli dare la possibilità di avere uno strumento aggiornato che insegue costantemente gli aggiornamenti che ogni giorno possono arrivare di questi nuovi sistemi di socializzazione online e dare la possibilità di essere sereno perché quando il momento del problema avverrà si spera mai ma potrebbe avvenire esserne allertato e quindi avere la possibilità di parlare perché questo è ciò che conta cioè è un qualche cosa che consente ai genitori e ai ragazzi di parlare fra di loro per risolvere il problema e anche di avere una percezione più ancorata dei fatti cioè non è che l'insegnante ha una sua idea di quello che accade lo sta vedendo in qualche modo in maniera concreta quindi i ragionamenti poi o le prese di posizioni o le azioni più concrete da seguire sono misurate sui fatti questo assolutamente sì sui fatti cioè noi abbiamo un fumerone davanti di queste cose qua si stanno facendo leggi a Roma che riguardano qualche volta una polemica mediatica o abbiamo degli esempi recenti e non abbiamo una misurazione concreta sulle cose in questo caso che si diceva è maggiormente adeguato al contesto perché riesce a misurare grossomodo lo stile conversazionale quella non è più una nuvola indistinta ma riesco con questo strumento o dentro un patto generazionale familiare o ad esempio anche per un dirigente avere un'idea a quel punto di non di cosa parlano ma di come parlano in qualche modo e tu dicevi giustamente anche questo è un problema di percezione senza rendersi conto di star facendo cose sbagliate e magari poi fanno anche vanno a incappare in reati degli illeciti certo se vuoi aggiungere se no rapidamente perché poi lasceremo qualche minuto delle domande eventuali ma diciamo una sintesi in tre parole è necessario è doveroso far sì che si riacquisisca quel clima di serenità nei confronti di strumenti diciamo dei social che normalmente tutti quanti utilizziamo e che in alcuni casi possono provocare dei danni e come ha detto che poi proseguono negli anni una semplice frase lasciata lì con uno snapchat che dopo 24 ore scompare in realtà ha una permanenza che può durare anni in un individuo e quindi il poter raccoglierla intervenire agire parlare è per noi fondamentale e poter supportare in un fatto educativo chi opera nel mondo della scuola con degli strumenti aggiornati che consentono ai ragazzi di essere non solo partecipativi ma effettivamente consapevoli che il loro modo di esprimersi non è assolutamente un modo corretto è per noi diciamo l'obiettivo principale io una domanda dal pubblico per Luca perché riguarda questioni di scuola dice una domanda secca ad esempio un insegnante che sa che un allievo ha fatto un filmato in un ambiente scolastico ed è possibile che possa trattarsi di cyberbullismo può verificare la cosa prendendo in mano lo smartphone dell'alunno e nel caso non possa per questioni di privacy che cosa consiste a quel punto la mancata vigilanza se non può controllare se non può agire perché bene o male questo è mio io vengo a scuola sono un ragazzo sì certo io in effetti anche sconsiglio ai docenti di sequestrare tra virgolette lo strumento questa è una pratica che negli anni scorsi era molto diffusa il docente vede il ragazzino che utilizza il telefonino portamelo te lo sequestro e lo do ai tuoi genitori il giorno dopo al termine delle lezioni eccetera anche questa è una pratica molto pericolosa nel senso che tu ti appropri comunque di uno strumento che non è tuo nel caso in cui poi lo strumento cade tu devi anche rimborsare lo studente perché hai causato un danno è una cosa molto pericolosa è chiaro che la vigilanza viene fatta non tanto su quello che succede sotto il banco il docente non è che deve stare attento a vedere se sotto il banco il ragazzino utilizza il cellulare ma nel momento in cui viene a sapere di un utilizzo improprio di questo strumento nel momento in cui viene a sapere che questo utilizzo improprio può cagionare un danno ad un compagno ecco che lì il docente deve parlarne sicuramente subito al dirigente scolastico e poi insieme si prendono dei provvedimenti più opportuni sul fatto della ripresa del video la cosa migliore non è tanto quello di sequestrare il cellulare per vedere se effettivamente il video è stato fatto la cosa migliore è comunque parlarne al ragazzo e alla classe e spiegare perché certi comportamenti non vanno tenuti cioè perché il video non può essere effettuato in classe se non previo consenso da parte del docente quindi il dialogo secondo me è la forma di prevenzione da perseguire sempre e comunque atteggiamenti come proprio così prendere il cellulare dell'alunno e sequestrarlo è una cosa assolutamente da evitare immagino cause che ci saranno come dicevi prima nei prossimi anni per cose che non riusciamo nemmeno ancora a concepire domande dal pubblico a un relatore sull'argomento senza fare chiudiamo no quelle online sì una parlava male di me diceva che dovevo moderare di più facendo parlare quindi non ho capito bene perché se modero blocco le persone mentre mi pare che gli argomenti siano in qualche modo usciti anche se appunto erano più punti di vista diversi modi diversi per approcciare la stessa tematica che è una tematica educativa che vuol dire coinvolgere il mondo intero di tutte le componenti della comunità educante che dicevo prima dico solo una parola io a questo punto per chiudere che è quella che dicevo all'inizio noi abitiamo linguaggi potrei fare mille esempi storici anche solo del novecento per non prenderla nei secoli indietro ma lo strumento cellulare essendo il telefono essendo intimo vicinissimo a noi è investito di caratteristiche esistenziali cioè portare via un cellulare a qualcuno provate voi a perderlo o dimenticato o dimenticarlo a casa siete nel panico cioè cinque anni fa dicevo vabbè torno a casa guardo la scrittura telefonica guardo la mail provo a richiamare io e non importa adesso se lo dimentichiamo torniamo indietro a prenderlo si sa mai che e figuratevi per un ragazzino dove tutta la sua vita è lì dentro foto i chat si è innamorato è stato lasciato con una chat su whatsapp ha conosciuto quest'altra tipa ha fatto i flirt ha litigato è stato tradito da amici o da amiche compagni o partner tutta la sua vita è lì dentro lui abita quel ragazzino abita un linguaggio che lo costituisce nella sua identità lui trae identità dal suo essere connesso al mondo con questa cosa qua in più che noi non avevamo non ci è io credo sono delle ipotesi radicali non ci è possibile comprendere appieno il significato esistenziale che hanno i nuovi linguaggi per le nuove generazioni possiamo adeguare col buon senso un percorso educativo so cosa è buona e cosa non è buona in termini di crescita l'ascolto la capacità di vedere più lontano quindi le conseguenze delle azioni che stai per compiere anche se non sai ancora cosa stai facendo anche se non ti rendi conto che linguaggio stai praticando questo è fondamentale da dire provare a capire a mettersi nei panni vuol dire cosa innanzitutto noi essere persone attente e curiose che vivono nel 2017 vuol dire sapere la portata che ha Facebook nelle scelte elettorali delle elezioni americane cosa vuol dire fare advertising su Facebook l'hanno fatto i russi per far vedere a Wisconsin certe cose e non altre di modo che quelli del Wisconsin votassero Trump o quell'altro in un certo modo cioè non sono i giochi dei bambini io mi sono arrabbiato per anni in questi vent'anni di progetti perché mi dicevano perché sono i fruschi al su i ragazzi che giocano dirigenti scolastici che non comprendevano la dimensione sono cose che modificano pesantemente il mondo nostro economico sociale culturale figuratevi il mondo affettivo esistenziale di un ragazzino per cui è determinante questo oggetto provare a essere questo noi come adulti come genitori attenti a quello che sta succedendo capire quando il Corriere della Sera ci parla di Facebook ci sta parlando di il modo in cui il Corriere vede Facebook ma per mio figlio Facebook non è quello che mi racconta il Corriere cosa intende veramente dire Facebook in quel modo e Instagram cosa vuol dire mettere un like e così via io sono a posto una parola sì io voglio solo aggiungere una cosa perché altrimenti facciamo un po' di confusione allora i punti di vista possono essere molteplici il dato di fatto è che il ragazzino non è questo la polizia postale va nelle scuole a dire esattamente l'incontrario cioè questo è semplicemente uno strumento come ha detto l'avvocato ma non è la mia vita questo è uno strumento che mi consente di avere una proiezione nel web per acquisire informazioni e per crescere ma la mia vita virtuale cioè la mia web reputation non è questo esattamente l'incontrario la mia vita reale è quella di un ragazzino di 13 anni che è fisicamente inserito in un interno di una rete di relazioni e vive di cose vere non di questo quindi questo ci terrei proprio a specificarlo perché altrimenti il mio ruolo qui l'altra cosa che mi permetto di dire del cellulare che non so se l'avvocato è d'accordo e anche questo è un messaggio che vorrei dare purtroppo non ho potuto far vedere le slide e quindi non ho potuto illustrare quella che è l'attività della polizia postale bisogna vedere l'uso che si fa del cellulare a scuola cioè se io uso questo durante le ore scolastiche e il professore ha il convincimento che ho ripreso un ragazzino ho fatto un video cyberbullizzante il professore invita perché ha il dovere di farlo il ragazzino a consegnare non a sequestrare a consegnare spontaneamente il cellulare lo mette lui sulla cattedra dopodiché chiama immediatamente i genitori perché se quel video esce fuori dalla scuola il professore è corresponsabile se al contrario il cellulare viene usato durante l'orario di ricreazione o in orario extra scolastico allora a quel punto ha ragione lei perché il sequestro compete soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria e non certo al professore però mi raccomando perché altrimenti ecco quindi se viene usato l'uso di un cellulare durante le ore scolastiche il professore che è titolare diciamo di quella lezione ha il dovere il dovere di farsi consegnare il cellulare che non è un sequestro se lo fa consegnare se lo fa mettere sulla cattedra dopodiché ovviamente per una questione giuridica se ha il convincimento che il ragazzino ha ripreso qualcosa che non doveva riprendere c'è il rischio che lo mette in rete chiama il genitore chiama ovviamente il professore il preside il quale darà luogo diciamo ad una sommaria istruttoria perché c'è anche questo nella nuova legge e poi nel caso in cui ci siano ripeto delle comprovate attendibilità del fatto che il video sia un video offensivo e che ancora non sia stato messo in rete perché è fondamentale a quel punto l'ammonimento del questore se il video è stato messo in rete c'è la legge ecco scusatemi questa è una precisazione che volevo fare perché altrimenti facciamo un po' di confusione grazie buonasera grazie alla prossima occasione grazie grazie grazie